L'Italia ha giocato e sta giocando un grande ruolo, il nostro compito è, almeno quello che noi ci siamo dati, è provare a rendere l'Europa concreta per la vita dei cittadini. Questa iniziativa della rete wifi va in questa direzione, mette insieme le potenzialità, valorizza l'idea di sistema e offre un grande servizio a cittadini e turisti. Senza l'Europa non c'è salvezza, ma l'Europa deve riuscire ad avere un passo sempre più vicino alla dimensione della vita. Fino ad oggi l'Italia forniva i dati ed erano soggetti privati, in genere i big, i grandi della rete, ad avere i nostri dati. Oggi l'Italia crea un meccanismo per cui ha il controllo e l'utilizzo dei propri dati. Questo sposta in modo fondamentale, comincia a spostare in modo fondamentale, il sistema del potere rispetto a un dato fondamentale.